Senta signoran, gliel'ho detto, ho capito, ok? Avere rispetto, ho registrato, mi sono messo il giacchetto mille volte e me lo sono tolto altre mille volte, va bene? È stupido, ora basta, possono pestarmi se vogliono. E lo sa perché è un solo allievo? Perché non lo conosce il Kung Fu? Soge! Che c'è? Vieni qui. Metti il giacchetto. Signora, le ho già detto. Metti il giacchetto. Metti il giacchetto. Non ce l'ho più. Metti il giacchetto. Sifote. Metti il giacchetto. Fermo. Togli il giacchetto. Ricorda bene. Sempre forte. Togli il giacchetto. Piede sinistro dietro. Destro dietro. Sinistro dietro. Prendi il giacchetto. Foto. Foto. Sempre concentrato. Sinistro dietro. Ancora. Prendi il giacchetto. Stai lì. Prendi il giacchetto. Foto. Appendilo. Appendilo. E' atteggiamento. Colfisci. Appendilo. E' atteggiamento. Io forte. Forte. Bene. Ma niente facce. Togli il giacchetto. Kung Fu vive in tutto ciò che facciamo, Shao Jai. Vive in come mettiamo un giacchetto. In come togliamo un giacchetto. E vive in come trattiamo le persone. Ogni cosa è Kung Fu.